Una cliente ha ordinato questo tappeto per un matrimonio. Il risultato vi mostro alla fine del video. Quando l'abbiamo proiettato sembrava molto facile e fattibile. Ma poi abbiamo capito che non era così. Infatti per questo tappeto ci abbiamo messo 27 ore e 50 minuti. Secondo voi piacerà agli sposi? Che ne pensate?